L'arrivo di Papa Francesco per Economi è una grande gioia, la sesta per Assisi. Bergoglio torna nella città serafica dopo la prima intensa visita pastorale del 4 ottobre 2013, le due visite del 2016 a distanza ravvicinata, il 4 agosto in occasione dell'ottavo centenario del perdono di Assisi e il 20 settembre per la giornata mondiale di preghiera per la pace, sete di pace, religioni e culture in dialogo. Nel trentennale della prima giornata di preghiera voluta da San Giovanni Paolo II il 27 ottobre del 1986. Nel 2020, il 3 ottobre, altro gesto di grande significato, la firma davanti alla tomba di San Francesco dell'enciclica Fratelli Tutti sulla fraternità e l'amicizia sociale. E poi ancora, in preparazione, la giornata mondiale dei poveri celebratasi domenica 14 novembre 2021, il Papa si era recato in forma privata nella Basilica di Santa Maria degli Angeli per incontrare un gruppo di 500 poveri. A queste visite vanno aggiunte le altre due in Umbria. L'11 gennaio 2019, a sorpresa, Papa Francesco si era presentato al Monastero delle Clarisse di Santa Maria in Vallegloria Spello. All'inizio dell'ottobre 2016, invece, aveva visitato le aree terremotate di Umbria e Marche, fermandosi anche a San Pellegrino, frazione di Norcia, gravemente colpita dal sisma.